Non è vero che il progresso è la misura di tutta la storia umana, il progresso è un'invenzione moderna ed è il modo attraverso il quale i moderni si immaginano che funzioni la storia. L'epoca moderna è l'epoca in cui la struttura del tempo è una struttura fratta e discontinua, tutta segnata da decisioni. E il tempo stesso, contemporaneamente, l'epoca moderna è l'epoca in cui ci si immagina che il tempo sia al contrario un tempo lineare, progressivo. È un tempo in cui può succedere di tutto, è un tempo in cui si può fare di tutto. Allora, è un tempo che può essere immaginato come un tempo lineare, appunto la parola chiave è immaginato, può essere pensato come un tempo lineare, è un tempo che invece in altre circostanze può rivelare la propria insensatezza, cioè il proprio essere un labirinto. L'altra caratteristica fondamentale grazie alla quale noi capiamo come funziona la categoria di tempo della modernità è che questo tempo è un tempo dell'attesa, certo l'abbiamo detto, cioè è un tempo in cui il sacro non interviene, ma è un tempo straordinariamente indaffarato, è un tempo del fare, cioè non si attende, non si attende nel senso dell'aspettare chissà che cosa, è il Novecento che coglie l'insensatezza di questa temporalità e la trasforma nell'aspettare Godot, cioè nell'aspettare non si sa che cosa. Ma tutta la modernità è proprio in quanto dequalificato, presenta un tempo che viene riempito di faccende, faccende pubbliche, faccende private, un tempo di affaccendate.